Ciao ragazzi, benvenuti ad un altro dei miei video. Oggi l'attore in questione è Luca Mazzoni. Guardate un po' quello che è successo. 1, 2, 3, bam! Grandissima parata. Vi è sembrata facile? Non credo. Adesso vi spiego come ha fatto. Ai miei portieri viene sempre ripetuto di guardare attentamente la palla, così da non abboccare a quelle che sono le finte d'attaccante. Qua non c'è stata una sola finta, ma ben due. Mazzoni è stato molto bravo perché in questa finta qua, e anche in questa, lui è rimasto con il busto inclinato in avanti e nello spostamento laterale è riuscito a rimanere carico per poi esplodere su questo tiro. Bravo Luca! Qua sotto ci sono i 5 passaggi fondamentali per poter allenare e replicare questo tipo di intervento. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!